Musica Attenzione ragazzi, attenzione Musica Bert Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di Cittanova, in piazza, la mattina dopo ancora con le braci e mettevano le patate. E peperoni da arrostire, noi venivamo a messa alle 6 e mezza, la prima messa. Patate e peperoni, bellissimo. Però se le mettevano le patate. Certo, quindi durava parecchio. Le braci finavano al mattino, praticamente. Molto, molto bello. Tu quante volte hai visto questo falò? Tanti anni? Da quando sei nato. Quindi è una bellissima tradizione che ti porti dietro. Molto bella. Ciao. Ciao. Tu sei fratello di... Tu sei... Tu sei Ivan. Sono io. E lui fratello è... Mi permetterà a muoverti di qua. Borghese. C'è un'alessandro borghese, c'è... Tu sei? Ci fai un'alessandro borghese. Bravo, bravi. E non, ora vai. Mottata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.